ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario pg 600 a cosa serve pg 600 a un medicinale veterinario a base del principio attivo con adottropina corionica più gonadottropina sierica appartenente alla categoria degli gonadottropine e nello specifico gonadottropine è commercializzato in italia dall'azienda msd animal health srl pg 600 può essere prescritto con ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare intervent international bv concessionario msd animal health srl ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile principio attivo gonadottropina corionica più gonadottropina sierica gruppo terapeutico gonadottropine forma farmaceutica fiale iniettabile confezioni pg 600 su toc 1 flacone 5 dosi più 1 flacone 25 ml solve pg 600 su toc 5 flaconi 1 dose più 5 flaconi 5 ml solve principio attivo gonadottropina corionica più gonadottropina sierica 200 ui più 400 ui dose indicazioni scrofe induzione dell'estro trattamento 0 3 giorni dopo lo svezzamento aumento dimensione nidiata barra subfertilità 0 3 giorni dopo lo svezzamento anestro circa 10 giorni dopo lo svezzamento diagnosi di gravidanza dal 18 all 80 giorno dopo la monta o la fecondazione artificiale scrofette anestro all'età di 8 10 mesi induzione dell'estro in scrofette in puberi all'età di 5,5 mesi 6,5 mesi eventualmente rinviare la copertura al 2 al calore dopo il trattamento nota sincronizzazione dell'estro l'uso di pg 600 per tutte le indicazioni menzionate provoca l'estro 3 6 giorni dopo il trattamento diagnosi di gravidanza l'uso di pg 600 non provoca la comparsa del calore nelle scrofe gravide posologia somministrare per via sottocutanea dietro all'orecchio una dose 200 ui di hcg e 400 ui di pmsg di prodotto ricostituito 5 ml per animale tempi di sospensione carne e visceri 0 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato vediamo al prossimo farmaco non Grazie a tutti.